Come è andato l'esame? Bene, pensavo peggio, quindi bene. Quali sono state le tracce? Allora, il primo Ungaretti, Pirandello, poi dopo Rita Levi di Montalcino. Quale hai fatto? Io ho fatto Rita Levi di Montalcini. Che cosa hai scritto? Parlava dell'imperfezione, insomma che non si può raggiungere la perfezione nel lavoro e nella vita privata. E adesso quali saranno le prossime prove? Allora, domani abbiamo quella di economia, l'altro scritto di economia e poi martedì subito avrò già l'orale, quindi noi del serale saremo i primi a terminare. Una delle prime uscite dall'esame di maturità, come ti senti? Molto più leggera, molto molto più leggera, non vedevo l'ora finisse. Questa notte hai dormito? Diciamo di sì, mi sono guardata una notte prima degli esami, quindi mi preparo per la prova di domani e lunedì ho l'orale, sono la quarta, quindi tocca che mi metto giù a studiare. Dopo gli esami? Un'estate libera e poi dopo l'università probabilmente, sì. È stata facile, era un argomento che mi piaceva, storia, quindi è andata molto liscia. Pronto per la prova di domani? Sì, dai. Domani che cosa c'è? Grafica, otto ore, belle intense. Sai già quando sarà il tuo orale? Sì, sarà il 26, sarò il primo nel gruppo, quindi ce lo leviamo subito e l'estate dopo sarà tutta libera, sperando di farlo bene. Che tema hai fatto? Io ho trattato il tema C2 che parlava del diario che ormai non si usa più sulla scrittura, che comunque tendiamo a mostrare sui social, quindi diario digitale, tutto quello che non è più la nostra immagine personale ma come ci vogliamo mostrare al mondo e non quello che stiamo internamente. Come ti senti adesso? Molto, un po' più libera, aspettiamo domani per l'ultima prova però sono abbastanza serena. Tu che scuola fai? Olivetti. E domani che prova hai? Io ho la prova di grafica, tecnica di comunicazione e informatica. Pronta? Prontissima. Che tema avete fatto? Io ho scelto una traccia, un tema attuale che ho approfondito e argomentato, mi ha fatto molto piacere svolgere questo esame e già mi sono tolta un piccolo peso, un po' di soddisfazione. Tu invece quale traccia hai scelto? Io ho scelto il tema, tema classico diciamo sui social e su quanto riguarda tra il passato e il vecchio. Il diario? Il diario esatto sì, il diario è andato, penso bene, dai speriamo. Ieri eravate agitati prima dell'esame? Io non tanto se devo dire la verità, mi preoccupa di più l'orale però gli iscritti no, soprattutto italiano che me la cavo bene, cioè poi non voglio dire. Quindi stanotte avete dormito? Io ho dormito da Dio proprio. Insomma l'emozione, più che l'ansia l'emozione che se gli dai anche una certa importanza l'emozione subentra sempre, è sempre lì al primo posto quindi bisogna gestirla. Però dai speriamo di dormire meglio stanotte. Come vivete la maturità? Abbastanza bene dai. Per voi che cos'è? Un punto di arrivo, un passaggio, un inizio? Che cos'è? Un inizio di una lunga vita, speriamo. Sono soddisfatto perché in italiano sono sempre andato bene e penso che anche qui all'esame di aver fatto bene come sempre, penso che sono contento. Quando sono uscite le tracce sei stato contento? All'inizio ero un po' attitumante perché le prime non mi andavano tanto a genio diciamo, però dopo ne ho trovate un paio carine e di fatti sono stato anche un po' indeciso, però alla fine ho scelto quella che secondo me era giusta e l'ho fatta. Ho scelto la B3 sul silenzio, riscoprire il silenzio. Quindi un tema filosofico? Sì, sì, abbastanza. No, era abbastanza recente, del 2013, perciò... Adesso ti prepari per domani? Sì, sì, ci prepariamo la seconda prova. Quella sarà secondo me un po' più difficile, però la faremo anche quella, dai.